luni in questa casa vive un bambino luni e fin qui nulla di strano ma quando la luna appare in cielo il piccolo luni si trasforma in un simpatico lupetto mannaro solo la vista del sole può farlo ritornare alle sembianze naturali così il piccolo luni cresce e diventa un allegro ragazzo che con i suoi amici kim beef e palsy viene coinvolto nelle più incredibili ed appassionanti avventure chi sconfiggerà tanti mostri chi salverà gli amici dalle situazioni più pericolose solo lui luni